La maschera di Cristoforo Colombo. Questa maschera l'ho inventata nel 1992, in coincidenza e volutamente per i 500 anni dalla scoperta dell'America. Era nata per un gruppo di italiani che festeggiavano il Columbus Day a New York e volevano avere questa maschera alquanto raffinata proprio perché era stata ripresa dal dipinto di un veneziano del Rinascimento, contemporaneo di Cristoforo Colombo, che si chiamava Sebastiano del Piombo, Sebastiano Luciani, detto Sebastiano del Piombo, che lavorava alla corte del Papa di Roma e che probabilmente vide Cristoforo Colombo e gli fece questo ritratto con questo cappello da capitano di mare, con queste grandi ali, orecchie ai lati, legate da questa corda perché doveva servire poi ad abbassarsi il tutto quando nelle tempeste il capitano della nave doveva stare sul ponte. Questa maschera di Cristoforo Colombo ha avuto un'inattesa fortuna perché quando la scenografa dell'ultimo film di Stanley Kubrick, The Eyes Wide Shut, venne al mio negozio ad acquistare le maschere, comperò anche questa maschera. Ne prese due copie. Vedi poi l'uso che ne fece il grande regista. Siamo nella scena centrale del film, nella scena cosiddetta dell'orgia, dove Tom Cruise è invitato da anonimi in un luogo strano, spaesante, lontano dalla città. Lui acquista per sé un costume ed una maschera e in maniera molto titubante, molto nervosa, si trova all'interno di questo enorme castello dove in questi saloni spaziosissimi stanno allineate figure mascherate, forse più di 150, ognuna con delle maschere diverse. A lui si avvicina una fanciulla vestita solo di una maschera, dunque per il resto nuda, che dopo averlo in qualche modo sedotto, visto anche la situazione nella quale si trovava, lo intima di andarsene. Si avvicina un personaggio maschile che mette a disagio il permanere di Tom Cruise in quello spazio e in quel luogo e indossa questa maschera. Questi due personaggi, la donna nuda mascherata e il Cristoforo Colombo, all'inverso ricordano i personaggi danteschi di Virgilio e Beatrice che accompagnano e seducono positivamente in questo caso Dante all'interno del suo viaggio nell'altro mondo, come Cristoforo Colombo, lo scopitore del nuovo mondo, invita il protagonista ad andarsene. È tutto un pensiero al negativo, al contrario, che Kubrick applica su questo girone di mascherati all'interno di questo castello. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti